La morte è stata nella casa di fronte, nella giornata d'oggi. Lo capisco dall'aria sbalordita, che han sempre certe case. Andi, rivieni di vicini, riparte la carrozza del dottore. Una finestra s'apre come un seme, improvvisa, meccanica. Qualcuno mette fuori un materasso e accorrono i bambini. Chiedendosi curiosi, se è morto proprio lì. Così facevo nella fanciullezza. Il prete entra solenne, come se fosse il padrone di casa. E' padrone della famiglia in lutto, e anche di tutti i ragazzini. Poi viene la modista, e viene quell'uomo dall'orrendo mestiere, a prendere le misure della casa. E da momenti la nera parata di nappe e di carrozze sfilerà. Facile come ad un segnale, è l'intuizione dell'avvenimento in un paese di campagna. Facile come ad un segnale, è l'intuizione dell'avvenimento in un paese di campagna. A presto.